Let's play La rissa La rissa di questa settimana Ed è praticamente una UF Cioè tutti hanno Più vita Riduzione ricarica Sulle ulti e sulle spell Giuseppe e Maria May è il sempre assolutamente più forte in questa modalità Perchè ah Vi cerchi di spiegare che sono anche più in fretta Vediamo un po' come va a finire Ah si sono, cioè non è un Un commentario eh Cioè Ah Ho un'altra a prenderla Che schifo La tina La tina Sì se siete in crescita Perché comunque non sono Sono in casa Finiamo Allora Andiamo a fare bordello Andiamo a fare bordello Via Ah tu è stupido Amico sempre No Hanno Tre livelli Cento e Passano Ne menù Il piatto è 1 89 Ah 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 Tronzo 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 di mello Tronzo di mello Lo stronzo di mello Che manzo C'è ragà è quello lì è Un amico niente Poi gli rispondo Secondo Secondo E vuoi più ci Ci deve stigare No vabbè Mi vuole più Tanto Genji Sta lì e Non da pastiglio Ecco Sto Coglione RITORNATO Aaaaaaah Prosto Genji Mi so Fa fregare Com'è il figlio A me Nan 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 non c'è pronta è uscito dal gioco è bello quando succede più ultimo mi hanno whatsapp ma abbiamo selettiva non mi hanno whatsapp non sono uscita a vedere i danni what the fuck non capisco sta cosa si niente pure il pure è il pure è a rodo ve lo sconsiglio raga perchè lui mi ha consigliato a rodo e il grab è one shot ma siccome la vita è aumentata non si può cioè è inutile se grab e scappa anche perchè appunto hanno le skill diminuite quindi hanno mo mo quindi c'è lo c'è l'ho un po' inutile come si mette alla fine nessuno mi aiuta sono il l'unica idiota che sto all'attacco sai che la straperdiamo ma io la pubblico comunque tanto non mi frega a me sto facendo inutile inutile da schifo però vabbè pacienza abbiamo quattro diva ecco perchè se la perde perchè è quattro diva va eh vabbè eh vabbè guardalo una cosa più buona su tavola ma ma com'è passato a culo non ho preso nessuno gli altri miei amici di dove stavano che avevo presente fatto piacere non c'era nessuno sul punto ma quattro divano magari il tasse o una cosa hanno buon insieme la ulti contemporaneamente però evidentemente sono stupidi roger proprio proprio più stupidi di quello più rinzunasse io ci sto continuando a tripare come l'idiota eh vabbè raga che ti devo di a me che frega e sto bene così a perdere proprio di schifo che schifo di partire ce l'ha veramente che cacata e dici ci la porta non posso più vabbè ho concoltato ha proprio fatto quella costituzione no eh vabbè raga che vi do di ho fatto parte di merda e ci salutiamo ciao ah vediamo la foto eh vabbè sto collone sicuramente il passo il mio attacco è lecissimo è morto non arriva ma qua oh un altro voto un altro voto leggi leggi un voto leggi date un voto che schifo stronzi un altro voto è morto che ci sono che c'è l'a un altro voto che c'è l'a che c'è l'a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.